No, aspetta, questo è inquino. Facciamo una scelta diversa. Noi scegliamo una navetta ecologica, efficace ed elettrica. Io a scuola ci vado in bicicletta. Noi ne approfittiamo per una bella passeggiata. Noi ci godiamo il panorama. Il nostro futuro ha le nostre scelte. Tutela ambientale. Sviluppo. Riduzione delle emissioni. Ecosistema. Operazione. Sorse naturali. Sensibilizzazione. Salute umana. Innovazioni. Sostenibilità.